Beh, una nuova Arisa si prepara ad affrontare il Festival di Sanremo cambiata nel look e nelle aspirazioni. L'ha incontrata Maria Barresi. Amami è il disco della maturità, sperando di essere diventata matura. E' un po' di più. E' sicuramente una Arisa più sicura la cantante che incontriamo a Roma. Con Amami il suo nuovo album dà prova di essere anche una raffinata autrice. Altra maturità e nuovo look per Arisa senza più occhialoni. Mi sento di essere più uguale a me stessa che mai. 29 anni Arisa è pronta per il suo terzo Sanremo, dove ha debutato nel 2009 vincendo con il brano Sincerità. Questa volta porto una parte di me che vuole raccontare una cosa un pochino più profonda, mettendosi un po' più a nudo rispetto alle altre volte. E sulla gag di Fiorello e Baldini che imitano lei e Morgan, giudici di un talent show, aggiunge... Divertente, divertente vedere gli altri come ti vedono.